Partiamo da un'applicazione già sviluppata in Angular che è composta da tre view. Queste view utilizzano dei componenti condivisi. In questo caso avremo un componente box, questo box grigio con l'immagine all'interno, un componente grid per suddividere e organizzare il layout in diverse colonne e ovviamente il componente col che appunto rappresenta la nostra colonna. Lo useremo un po' dappertutto, quindi saranno dei componenti condivisi e in più abbiamo qua un global counter che come vedete è stato incrementato a 5, qua poi diventerà 6 e così via, che è semplicemente un componente che al suo interno utilizza un servizio per gestire un counter, un contatore globale. Infine abbiamo poi una direttiva che fa sempre parte di questo kit di componenti riutilizzabili che si chiama URL che abbinato a un div, un'immagine e via dicendo mi permette di associare un link esterno, così poi semplicemente possiamo aggiungere facilmente dei redirect a delle location esterne, semplicemente con un attributo URL senza definire un click, event handler e così via. Bene, come l'abbiamo sviluppata? Semplicemente ho creato un progetto con la CLI di Angular, ovvero con il comando ng new nome del progetto. In questo caso avrò risposto sì nella domanda se voglio che Angular aggiunga router. Quindi avendo aggiunto sì a questa domanda, adesso killo il processo perché l'ho già creato, avremo a disposizione un modulo app e un modulo di routing già definito. Semplicemente le regole di routing non saranno inserite direttamente in questo modulo, ma in un modulo esterno che appunto viene chiamato modulo di routing. Ora, che cosa abbiamo qui in questo app module? Avremo l'elenco di tutti i componenti che utilizziamo, sia dei componenti come l'app component, il componente diciamo principale della nostra applicazione, la barra di navigazione, le tre pagine che sono i tre componenti che ho inserito in questa cartella pages e in più dei componenti riutilizzabili, tra cui il box, la colonna e la grid, la direttiva URL di cui vi parlavo e il nostro contatore counter component. Infine importiamo i moduli browser module, che è necessario per l'avvio dell'applicazione per fornire a questi componenti direttive come ngif, ngfor, ngclass e così via, e poi il famoso app routing module, che invece di, che ci permette invece di definire le regole di routing qui, di definirle in un file che appunto si chiama app routing module, che una volta aperto vediamo che non fa nient'altro che evitare qualunque declarations, qui non ci sono componenti dichiarati perché sono tutti in app module, ma semplicemente di importare router module e tramite il metodo for root di configurare le root. Al path, quindi quando l'url contiene slash home, caricherà questo componente, quest'altro o quest'altro ancora. Nel caso di un qualunque, diciamo, path che non corrisponda a nessuno di questi tre, vengono renderizzati direttamente alla home. Dove vengono caricati questi componenti? In app component, appunto il nostro entry point, il nostro componente principale, avremo una barra di navigazione, banalissimo componente, che ha tre link, che semplicemente puntano con router link, router link active per abilitare una classica SS quando questo path viene visualizzato, si permette di, appunto, modificare il path. Quindi qua, clicchiamo su catalogo, andremo su catalogo e vediamo questa active class appiazzata su questo pulsante. Nient'altro. Infine, questo router outlet invece è il trick, quindi nel momento in cui ad un path del nostro browser corrisponde una regola del router, questo componente sarà caricato in questo punto. E infine vediamo la direttiva FBURL che semplicemente abilita appunto il link esterno, come abbiamo visto prima. I componenti shared sono inseriti in questa cartella. Abbiamo dei componenti di UIKit che sono il box, la colonna e la griglia, che adesso non andremo ad analizzare. Se poi siete curiosi, fatemelo sapere nei commenti, casomai farò dei video dove vi spiego come li ho realizzati. Poi potete vedere nel source code. la direttiva URL e poi abbiamo a parte un widget che è il nostro componente counter, banalissimo, componente che non fa nient'altro che mostrare una label global counter e un valore acquisito da un service che inietto nel componente, che viene semplicemente incrementato di 1, questo valore, nel momento in cui questo componente viene istanziato, ovvero ogni volta che accedo al componente home che istanzia il componente o al componente contacts che lo istanzia. in catalog non l'ho inserito, quindi se vado in catalog non viene incrementato, infatti vedete adesso diventa 10, 11, mentre se vado in home diventerà 12, quindi viene incrementato. L'ho messo a parte perché vedrete poi che semplicemente nella fase di refactoring in cui andremo a scomporre questa applicazione in moduli, voglio distinguere questo UIKit da questo, non perché sia necessario in questa casistica, ma per farvi vedere delle altre tecniche, dove un componente sostanzialmente potrà avere un modulo a sé stante che ne gestisce i servizi, quindi provider e i componenti. È un modo per organizzare un eventuale modulo shared che vedremo poi come realizzare in sottomoduli, però ripeto, lo vedremo poi, adesso non è importante. Quindi questo è il nostro punto di partenza e quello che vogliamo fare adesso è abilitare il lazy loading. Perché? Perché la nostra applicazione, se andiamo ad aprire i dev tool, quindi andiamo un attimo a refresciare, adesso chiaramente la mia applicazione non è stata avviata, ma se andiamo ad analizzare i dev tool, vedremo che l'intera applicazione sarà inserita, per quanto riguarda il file javascript da caricare nel browser, in un unico file chiamato main. Refresciamo, vado nella network console e vediamo che il mio main pesa 50k. Qui ne abbiamo altri 2 mega 7. Ora, in realtà, questi valori sono ovviamente esagerati. Il motivo è che la nostra applicazione adesso la stiamo semplicemente sviluppando e in questo caso Angular non effettua alcune ottimizzazioni che invece effettuerà quando creiamo la build di produzione, quella che andremo poi a deployare sul server. Quindi successivamente nella build, non lo vedremo in questo video perché non è il focus appunto di questo tutorial, però quello che succederà dopo è che questi 2 mega 7 diventeranno zero, quindi sparirà e le parti di codice essenziali per far funzionare la nostra applicazione saranno presi da questo pacchetto e spostati sul main che peserà più o meno attorno ai 200-250kb per un Hello World, no? Più o meno. Ecco, comunque a prescindere che la build poi sarà comunque diversa come pesi, già qua in fase di sviluppo andremo a vedere che nel momento in cui dividiamo l'applicazione in diverse parti, in diversi moduli e li caricheremo lazy, andremo a togliere da questo main un po' di kilobyte, quindi un po' di peso e ogni volta che accederemo a una sezione vedrete qui sotto spuntare fuori quello che chiameremo chunk, una parte di JavaScript, una parte dell'applicazione caricata on demand, lazy appunto, quando accediamo alla sezione in questione.